Ciao a tutti ragazzi sono Joe Giant e ben ritrovati in questo nuovo video finalmente torniamo a parlare di calcio mercato ragazzi lo facciamo in grande stile lo facciamo in grande stile con la postazione, il microfonino, la maglietta della Roma perché ragazzi oggi iniziamo col botto iniziamo col botto perché è da giorni se non settimane che si sta parlando di questo possibile approdo di Edinson Cavani allora prima di tutto vi invito a seguirmi su Instagram perché lì saprete in anticipo tutte le notizie di mercato che so e che vado a spulciare il giorno dopo poi ci andrò a fare un video come sto facendo adesso quindi vi invito a seguirmi su Instagram Joe Giant e anche su Twitter ragazzi perché sono molto attivo anche su Twitter che cosa sta succedendo? circa 5 giorni fa c'è stato questo giornalista uruguaggio detto Gonzalo Ronchi che fa rima con Monci ma non ha una parentela che scrive e twitta questa roba qui Edinson Cavani ha ricevuto una proposta ufficiale molto forte dalla S Roma l'attaccante analizza l'offerta che finora è la più forte in termini economici di quelli che ha ricevuto in Europa quindi secondo questo giornalista che non so quanta valenza possa avere in Europa, nel mondo e nel suo paese lancia la bomba Edinson Cavani ha ricevuto un'offerta molto forte da parte della Roma addirittura risulta essere la più alta tra tutti i club europei passano i giorni arriviamo a un giorno fa, due giorni fa e sempre questo Gonzalo Ronchi che ha fissato questo tweet nella sua pagina scrive settimana chiave quindi questa qui che stiamo attraversando in questo momento è la settimana chiave per l'arrivo di Cavani a Roma quindi si sta ulteriormente sbilanciando oggi è l'offerta principale che ha il Matador una proposta molto forte in campo economico e contrattuale per tre stagioni quindi cosa è cambiato da quel post di cinque giorni fa? è cambiato che sono stati già a quanto pare determinati i tempi e il numero di stagioni nel contratto eventuale di Cavani lui dice che gli è stato proposto un contratto di tre stagioni lui ha 33 anni, se non erro arriverebbe a 36 anni che è più o meno l'età che ha Edin Dzeko in questo momento il punto è questo ragazzi prima di arrivare alla questione cosa succede? che un altro giornale molto accreditato in Spagna che è AS non culo in inglese AS che è il giornale spagnolo lancia la bombetta perché fin quando lo dice un giornalista uruguaggio che quanto può aver credito non lo sappiamo questo non lo sappiamo scrive l'Atletico Madrid abbandona la pista Cavani perché mesi fa prima del coronavirus sembrava cosa fatta tra Cavani e l'Atletico ricordiamo che Cavani è in scadenza di contratto quindi non c'è da trattare col Paris Saint Germain c'è solo da trovare un accordo economico col giocatore quindi si parlava di un famoso accordo tra l'Atletico e Cavani prima del coronavirus a quanto pare l'Atletico e Delciolo si è tirato indietro e secondo AS l'Atletico starebbe pensando a Milik quindi l'Atletico abbandona la pista Cavani lo stesso articolo di AS dice Cavani è tra Inter e Roma c'è l'articolo di AS che lo specifica io poi da domani ragazzi quando farei video di calciomercato vi metterò gli articoli sotto in modo tale che anche voi riuscite a guardare le fonti in modo tale da non farvi capire che sto sparando cagate quindi questa è la situazione in questo momento e siccome il ciringhito queste testate qui o queste televisioni qui vi ricordate all'epoca di Cristiano Ronaldo? fu la Spagna per prima a lanciare la bomba quando in Italia tutti dicevano ma che Ronaldo viene in Italia quando mai? fu assolutamente la Spagna a lanciare la bombetta ora detto ciò analizziamo la realtà perché Cavani può realmente arrivare alla Roma? questa è una domanda che ci stiamo facendo tutti noi romanisti la mia risposta è potrebbe ma a determinate condizioni perché con Gieco in rossa Cavani non verrà mai ma non perché Cavani non vuole giocare con Gieco ma perché la Roma non può sostenere due ingaggi pesanti molti dicono ma chi gli dà 12 milioni di euro a Cavani che prende la Paris Saint-Germain? nessuno nessuno ragazzi nessuna squadra garantirebbe a Cavani 12 milioni di netti a stagione per un 33enne nessuno a meno che non ti chiami Messi o Cristiano Ronaldo questo ve lo dovete mettere in testa perché non è che se un giocatore nel suo ultimo contratto guadagnava 12 milioni quindi automaticamente ne deve prendere 12 o più non esiste non esiste Cavani può decidere benissimo di accettare 12 milioni spalmati in 4 anni 5 anni è ovvio che nessuno darebbe mai a Cavani 12 milioni di euro all'anno è una follia è una follina e Cavani lo sa un 33enne deve cercare di prendere il più possibile perché sono gli ultimi anni di contratto della sua carriera quindi se come ipotizzo questo Ronchi è stato offerto un triennale io ipotizzo che 4, 8, 12 o 5, 10, 15 perché Geko comunque prende 6, 7 lordi o 6, 7 netti non mi ricordo però se tu quei 12 13 milioni di euro li garantisci in più anni come è successo con Pedro ragazzi Pedro verrà a Roma e guadagnerà 3 milioni a stagione quindi non è che siccome prende 12 milioni allora meno non ne può avere ma dove sta scritto non c'è scritto da nessuna parte il punto è questo il punto 1 come vi ho già detto è la permanenza di Geko esclude per me al 100% l'arrivo di Cavani quindi potrebbe riaprirsi una pista Geko all'Inter non lo sappiamo può aprirsi una pista clamorosa di Geko alla Juventus non lo sappiamo io credo più alla pista interista in quel caso potremmo far tutte le valutazioni di questo mondo un'altra eventualità sarebbe che un'eventuale nuova proprietà vorrebbe presentarsi con un colpaccio siccome attualmente non sappiamo ancora chi sia la nuova proprietà mi risulta difficile credere a una cosa del genere o chissà magari si stanno già portando avanti io non lo so però che Cavani è impossibile che venga a Roma io non ci metto la mano sul fuoco perché non sono arrivate né smentite né conferme eccetera eccetera quindi questa è la situazione attuale di Cavani cercheremo di tenerci aggiornati nel corso di questi giorni capitolo Under Under sembra essere molto vicino alla proda al Napoli molti dicono che c'è dentro Milik molti dicono che non c'è nessun giocatore come contropartita ma la Roma vuole solo cash si diceva la stessa cosa anche di Manolas poi si è fatto Manolas di Avarà e lo sappiamo tutti Milik vedremo vedremo se sarà inserita qualche altra contropartita non lo so sta di fatto che Under forse insieme a Kluivert è il papabile destinato all'accessione quindi Under potrebbe andare al Napoli o la Roma vorrebbe darlo all'estero come spererei io sinceramente poi se ci danno Milik ciao Under è stato un piacere per quanto riguarda altre operazioni di mercato ieri è stato confermato il prolungamento di contratto di Mkhitaryan fino al 31 agosto quindi farà anche l'Europa League e il buon Minoraio che non fa mai niente gratis quel maiale grazie a delle commissioni che sicuramente riceverà dalla Roma è riuscito a rescindere il contratto con l'Arsenal quindi dal 31 agosto Mkhitaryan può accassarsi alla Roma definitivamente e di lì penso che si decida di fare un contratto annuale con opzione per il secondo in base alle presenze per Smalling è stato prolungato il suo contratto fino al termine del campionato ma attualmente il Manchester United così come Sanchez non garantisce Smalling per l'Europa League perché sia noi che l'Inter siamo concorrenti per l'Europa League quindi quelli infami a parte che è un comportamento vergognoso la parte del Manchester almeno facci finire la stagione che comprende l'Europa League ma questa è una cosa che secondo me anche la FIFA deve valutare ma per quale motivo se la stagione non è finita ma dà la possibilità di prolungare i contratti a tutti i giocatori che devono stare ad accordarsi tutti quanti è una stronzata secondo me alla fine Smalling rimarrà almeno per l'Europa League perché il Manchester vuole monetizzare ragazzi quindi se tu non glielo compri a titolo definitivo o con obbligo di riscatto Smalling non te lo danno così come Sanchez questa è la situazione in questo in questo momento per quanto riguarda la Roma altre novità si parlava di un possibile scambio Gollini Florenzi o Spinazzola la Fiorentina non si sa ancora niente ragazzi per il momento non si sa ancora niente lasciate un bel mi piace mi raccomando seguitemi su tutti i social Instagram e Twitter ho parlato per 10 minuti a manetta bello mi mancava mi raccomando lasciate un mi piace Cavani alla Roma possibile non do percentuali difficile ma non impossibile ciao aglio gollini ciao ciao